Notte da incubo a Moria. Diversi incendi hanno distrutto gran parte delle strutture del campo sull'isola greca di Lesbo, che ospita più di 12.000 persone. Secondo le prime ricostruzioni ad appiccare le fiamme, sarebbero stati alcuni migranti in rivolta contro le regole di isolamento imposte per contenere il coronavirus. Misure decise dopo che più di una trentina di residenti sono risultati positivi. Stando ai media locali, il rifiuto di alcuni di loro di essere messi in isolamento nelle apposite strutture all'esterno del campo, avrebbe scatenato la rivolta che ha originato gli incendi. Migliaia di persone sono fuggite a piedi verso Mitilene, città portuale e principale centro dell'isola, ma sono state bloccate dai mezzi della polizia prima che arrivassero in città. È una situazione difficile perché tra i migranti scappati dal centro potrebbero esserci dei contagiati, ha detto il sindaco di Mitilene. Altri migranti si sono rifugiati sulle colline che circondano il campo. Il governo greco ha proclamato lo stato di emergenza. In giornata è in programma un vertice tra il primo ministro Mitsotakis e il capo di stato maggiore per stabilire le misure da adottare.